salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi ragazzi facciamo un video un po diverso dal solito con l'auto e livo proviamo o meglio cerchiamo di mettere alla prova i suoi 60 fps quindi per metterli alla prova ho deciso di venire a riprendere una domenica qualunque in cui si allenano i piloti di motocross qui nella pista di motocross vicino a dove abito io per vedere come si comportano i 60 fps e riprendere queste moto da cross quindi adesso senza perdere altro tempo decolliamo in 4k 60 fps con l'auto e livo sopra questa fantastica pista di motocross l'auto e livo sopra questa fantastica pista di motocross Grazie a tutti 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 Grazie a tutti